Costituzione italiana Art 1. Dice che, Repubblica democratica questo significa che l'Italia è uno stato in cui il potere è detenuto dai cittadini attraverso un sistema democratico, dove i rappresentanti vengono eletti dal popolo. Il termine, Repubblica, indica anche che l'Italia non è una monarchia, ma uno stato in cui il capo dello stato è eletto o nominato secondo la Costituzione. Fondata sul lavoro questa frase sottolinea l'importanza centrale del lavoro nella Repubblica italiana. Il lavoro non è solo un diritto, ma è visto come un valore fondamentale su cui si basa l'intera struttura della società italiana. Questo implica che la Repubblica deve promuovere e proteggere il diritto al lavoro, e che la dignità del lavoro deve essere rispettata. Sovranità popolare questo passaggio afferma che il potere sovrano, cioè l'autorità ultima su come è governato lo stato, appartiene ai cittadini. Il popolo italiano, quindi, è il titolare del potere supremo nel paese. Esercizio della sovranità La sovranità viene esercitata dal popolo attraverso le elezioni e altri meccanismi democratici come i referendum. Tuttavia, il popolo deve esercitare questa sovranità, nelle forme e nei limiti della Costituzione, cioè rispettando le regole e le procedure stabilite dalla Costituzione stessa. Questo garantisce che l'esercizio del potere sia ordinato, giusto e rispettoso dei diritti di tutti.